Mi chiamo Grande Giuseppina, vengo dalla provincia di Varese, ho 60 anni, ho fatto questo percorso perché in mezzo alla gente non mi sentivo a mio agio, perché avevo i denti brutti, perché non masticavo bene, avevo mal di stomaco, sono venuta a Chisinau e ho fatto un mio bel percorso, ho tolto tutti i miei denti brutti, però il risultato dopo mi è aperta una finestra, eccomi, una finestra con un bel raggio di sole che ero di un felice, nonostante la paura, nonostante il percorso che ho fatto, perché insomma non è stato molto semplice, però io ho fatto un bel percorso, devo dire la verità, mi sono ricreduta e sono felicissima, felicissima ad aver potuto fare questo percorso, lo staff, tutti gentili, sono stati veramente, veramente tutti i vicini, se avevi bisogno di qualsiasi cosa loro ti venivano incontro, davvero una grande famiglia, se devo definirla una famiglia bella, compatta. Ho incontrato il dottor Palmas, ho fatto delle foto e sono stata davvero contenta di conoscerlo, una persona molto umile, detto ciò vi consiglio vivamente di fare questo percorso come l'ho fatto io. Ah, stare in mezzo alla gente, sorridere, perché a me mancava il sorriso, io sono sempre stata una persona molto, come devo dire, sorridente, no? Ho sempre lavorato in mezzo alla gente, perché lavoravo in una mensa di operai, tra l'altro, uomini, perciò il sorriso vuol dire tanto, se non avevi sorriso, sai, non è che era carino e questi denti ormai non mi permettevano questo sorriso un po', perché anni indietro io fumavo, diciamo che li ho un po' maltrattati questi denti. Secondo me il sorriso è molto importante, è un biglietto da visita, se tu sorridi alla gente, insomma, è carino, perché poi ti sorride anche il cuore, gli occhi, il cuore, mi hanno detto che non sembravo più io, perché insomma, sono diversa, allora mi dicono che io sono diversa, ma sono sempre io.